attenti da dove è spuntato questo muro gigantesco? l'avrà mandato la SAR per fermarci vuole impedirci di recuperare i poteri degli animali purtroppo non abbiamo un gorilla che ci aiuti a buttar giù questo muro i gorilla sono veramente forti già i gorilla hanno braccia molto robuste le usano per piegare i rami e gli alberi quando cercano cibo con braccia così potenti un gorilla riuscirebbe sicuramente a stritolare un muro gigante mi è venuta un'idea perché non costruiamo le parti che mi daranno la forza di un gorilla? mi trasformerò in una mega macchina gorilla i gorilla sono forzuti grazie alle loro braccia molto potenti per farmi ottenere braccia superforti di braccia superforti braccia superforti sii! sono diventato una mega macchina gorilla! yuhuuu! e ora colpo del gorilla! grandioso gorilla blaze! nessun muro sarà in grado di fermarci adesso! è un ruo di